Salute al governo, potete provare a presentarci ma noi saremo in piazza per rivendicare scuole, università, intervigie, ricerca, salere, spistere, democratiche, un contratto distinuoso, un diritto allo studio da tutti e tutti. Oggi studenti e lavoratori di scelta generale, non chiamiamo il traere, fino a che il subiettivo saranno realizzati e lavorati con assemblee, resisti, contro la banaria differenziata che faccia il paese, contro la guerra per la pace tra i popoli e per la scuola che produciamo l'accipazione in paglia tutti i giorni nelle aree, per il personale, per il cliente di incentivo, per il servizio, per i servizi, per i servizi, per i servizi, Salveni, 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 Salveni. Salvi, 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 Salvi. Salvi, 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 Sal Grazie a tutti. Grazie a tutti.